venezia ok siamo a venezia siamo arrivati al porto per andare a kulao chiam anche se forse non ci andremo perché oggi c'è mal tempo dicono siamo arrivati a fare colazione in questo locale rosy's cafe abbiamo provato ad andare all'isola e non siamo riusciti abbiamo provato ad andare in un altro posto io non l'ho mai vista una barca notona mi sembrava una cosa troppo impostata quindi ho deciso di optare per venire a mangiare qualcosa intanto è arrivato il mio compi abbiamo comprato un chilo di questa granola ora stiamo camminando verso il centro di Ojan e adesso andremo a fare un giro da qualche parte non so no let's go siamo appena assistito alla morte di un povero pollo che anzi che tiragli il collo come fanno in Italia praticamente lo dissangono gli tagliano la vena l'arteria del collo fanno uscire tutto il sangue e continuano a muoversi non muore però non ha più sangue e dopo di che lo buttano nell'acqua bollente figata sto posto comunque a parte i polli eh what is the name what name bantui 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 ok bantui bantui no butter please eccoci qua siamo in un mercato vietnamita ordinato un bantui ci sarebbe il pancake vietnamita con la banana e la nutella ovviamente i motorini che passano ovunque dove andiamo? centro antico di Ojan si ma da che parte è? eh dove non ti prendono sotto dove riesci ad arrivare è quello di dentro siamo arrivati alla venezia del vietnam ragazzi venezia ok andiamo a venezia 1 2 2 3 3 4 5 4 3 cosa di vietnamita tipico qui a Ojan. Abbiamo incontrato per caso una ragazza che parlava inglese e alla fine mi ha consigliato di venire in questo mercato a cercare i food stalls che sono questi qua dietro che vedete e di cercare la sua amica che si chiama Lieu. Mi ha scritto un messaggio in vietnamita sul telefono da far vedere alla ristoratrice, alla signora che ha il baracchino. L'abbiamo trovato, adesso mangeremo Questa è la signora Lieu. Non so se vi piace essere filmata, questi sono i menù. Ciao!